Ecco, qui mi trovo insieme a un grandissimo campione, Tala Monti e la grande argentina. Vuoi fare un saluto per la pace? Un saluto per la pace. All'argentina cosa vogliamo dire a tutti gli argentini, a tutti i tifosi? Sì, sì. Una parola particolare? Eh, tutto il corazono in Italia. Grande corazono. Grande corazono. Papa Francesco? Papa. Stupendo. Sì, è meraviglioso. La partita di stasera chi vincerà? Sì, va a morire al partito. La pace. Por la pace. E per la integrazione religiosa. Integrazione religiosa di tutto il mondo. Sì, sì. Ok, io ti ringrazio, salveviamo tutti quanti. Sì, tutti quanti. Ciao. Ciao. Grazie.